ariete situazione economica invidiabile di questi tempi grande solidità e serenità e la voglia irrefrenabile di fare un acquisto azzardato toro non farti rovinare la giornata da chi non vale un minuto del tuo tempo qualche delusione oggi non mancherà forse proprio chi non ti aspetti gemelli la ruota non gira settimana da archiviare quanto prima per te ti sei forse svegliato sperando fosse già sabato nervosismo diffuso cancro hai come la sensazione di correre dietro a mille cose ma di non essere tu a scegliere fino in fondo cosa fare una doccia fredda per ritrovare la lucidità che ti serve leone forse dovrai stravolgere alcuni aspetti della tua vita personale e familiare ma nella tua stazione si è fermato un treno su cui non puoi non salire vergine una sorpresa vera e propria inaspettatamente qualcuno farà qualcosa per te che non ti aspetti ti senti amato bilancia tentato da qualcuno che ti gira intorno da tempo e che sai non ti direbbe mai di no oggi potresti cadere in tentazione a te la scelta scorpione forse oggi è arrivato il momento di fare le giuste considerazioni e di imporre con decisione le tue scelte e tuoi diktat sagittario oggi un po tutto risentirà di una sorta di malessere generale non la ricorderai come la tua giornata migliore capricorno qualsiasi cosa accada ricorda che anche questa giornata premo poi finirà oggi hai più di un nemico da combatte acquario e quando meno te lo aspetti semplicemente tutto cambia sei pronto a rimetterti in gioco pesci un piccolo sgarbo ricevuto saprai far valere i tuoi diritti tira fuori le unghie è ora di farle